E' arrivato Antonio Bocchetti che ovviamente ringraziamo perché non è una frase fatta, parlare dopo una sconfitta del genere non è semplice, non è facile. Io partirei proprio dal 92esimo, da quel gol di Baic che ha fatto crollare un po' il mondo addosso al Pescara. Partita che sembrava praticamente chiusa, mancava un minuto al termine. Poi questa rete dell'Ascoli, a questo punto, insomma con questa sconfitta la salvezza del Pescara resta appesa ad un filo, la matematica dà speranze però. Chiaramente questo è un risultato che complica maledettamente il cammino del Pescara. Complica perché abbiamo perso un'altra partita in casa, soprattutto con uno sconto diretto, questo sì. Però se vogliamo parlare della prestazione, la prestazione c'è stata. Anche oggi in dieci abbiamo cercato di vincere la partita, non siamo stati lì ad aspettare l'Ascoli. È normale che una partita così delicata rimanere in dieci, non fa bene a nessuno. Questa è la seconda volta che ci capita e non deve capitare perché noi dobbiamo giocare le partite ad armi pari. Però la squadra non ha subito l'infinità numerica, anzi se vediamo le occasioni alla fine con Macin e con Setter potevamo veramente vincere la partita e sarebbe stata sicuramente un'altra cosa. L'abbiamo persa al 93esimo, questo è un peccato perché negli ultimi minuti dobbiamo cercare di tenere palla e marcare più in area di rigore. Abbiamo sbagliato la marcatura e ci hanno punito. Possiamo dire che la sconfitta di questa sera sarà anche brutto dirlo, però fotografa una stagione costellata da tanti errori. Io partirei proprio da quest'estate, Bocchetti, la mancata riconferma dell'allenatore che aveva salvato il Pescara lo scorso anno. Da luglio ad oggi sono stati commessi tanti errori e purtroppo i risultati sono quelli che vediamo questa sera. Abbiamo sbagliato tante cose, sì. Stiamo cercando di rimettere a posto le cose. Con questo nuovo allenatore fino adesso abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso. Si è visto, soprattutto a livello di voglia, a livello di compattezza, di organizzazione, qualcosa di diverso. È normale rincorrere sempre gli avversari. Non è una cosa normale, non è una cosa bella per una squadra, però noi ci dobbiamo riuscire. La responsabilità prima di tutto è la mia e poi a catena degli altri. Siamo qui a posto per metterci la faccia perché noi, i primi che hanno fatto errori, siamo stati noi. Quindi è nudo che girarci intorno. Dobbiamo cercare di riparare la situazione. Stiamo cercando di riparare con un allenatore che ha portato delle idee nuove. Fino adesso penso che comunque si sia apprezzato qualcosa di diverso. Questo non basta perché facciamo ancora degli errori che dobbiamo assolutamente evitare per cercare di centrare la salvezza. Pescara anche questa sera, Bocchetti, tradito un po' dai giocatori più esperti. Era successo anche due partite fa, prima l'espulsione di Drudi, questa sera quella di Scogna Miglio. Anche altri giocatori non stanno rendendo, e non dobbiamo fare i nomi perché è facile capire di chi si parla, non stanno rendendo per come ci si aspettava. Può essere pur una conseguenza del rincorrere questa classifica. È normale che gli errori, se siamo penulti in classifica c'è sempre un perché. Commettiamo degli errori importanti, soprattutto c'è un po' pure di sfortuna. Perché non l'ho rivisto, però secondo me il primo giallo di Scogna Miglio mi sembra che sia stato un po' eccessivo. È stato... Dionisi è andato addosso a Scogna Miglia e non c'è stato fallo, almeno così mi hanno detto. Il secondo penso che sia stato giusto. Lo stesso quello di Drudi, la prima munizione è troppo facile, la seconda onestamente ci poteva essere tranquillamente. Ma dobbiamo essere calmi perché c'era tempo e modo per riuscire a fare male all'Ascoli. Ci siamo riusciti in dieci, non vedo perché non dovevamo rimanere in undici a cercare di vincere la partita. Un altro capitolo, Bocchetti, quello degli infortuni. Una stagione costellata da una serie incredibile di infortuni. Questa sera abbiamo saputo da Grassadonia che Drudi non stava bene, è andato in panchina per onor di firma, Sorenzer non era al 100%, Giannetti non è al 100%, Seter convive con i consueti problemi muscolari. Insomma, perché tutti questi contrattempi fisici, perché tutti questi problemi? Io penso che comunque in un'annata così, dopo il Covid, con le partite non ravvicinate, penso che qualche infortunio in più, ma non solo da parte del Pescara, ma ci sono anche tre squadre che hanno avuto infortuni a ripetizioni, ci sono. Giocare ogni tre giorni, non cercare di fare una operazione intera, importante, per riuscire ad affrontare un campionato così distretto, è normale che qualche infortunio di troppo ci sia. Questa sera, per esempio, la differenza, a nostro avviso, l'ha fatta anche il fatto che l'Ascoli ha fatto entrare in campo giocatori pronti fisicamente nel Pescara. Sono entrati in campo dei giocatori, per esempio come Sorenzen, che non erano al 100% della condizione. Abbiamo avuto un piccolo infortunio per Bocchetti, quindi poi c'è stata un'altra ricaduta di Drudi, però il ragazzo penso che lo recupereremo tranquillamente con il Vicenza. E non male, siamo stati un po' corti in quel ruolo, però gli infortuni non sono stati solo quelli del Pescara, sono altre squadre che hanno avuto una serie di infortuni importanti. Penso che sia solo dettata la situazione di una operazione atletica e fisica dall'inizio dell'anno che non ci ha permesso di fare, ma come a me, come a tutte le squadre, non riesce a fare un preditiro importante come normalmente si possa fare. A questo punto la gara di sabato prossimo al Menti di Vicenza diventa una gara fondamentale. Solo con una vittoria, a questo punto solo e soltanto con una vittoria si potrà continuare a sperare. Una gara, 90 minuti che decideranno un campionato, poi tra l'altro ci sarà la sosta. Se si riuscirà a vincere a Vicenza si potrà continuare a sperare, altrimenti probabilmente il campionato del Pescara rischia di finire in Veneto. Non esiste proprio. Il campionato del Pescara finisce quando c'è la metamatica che ci condanna. Altrimenti, ho detto già prima, chi non si rialza da questa sconfitta può stare a casa. Questo è poco ma sicuro.